amici di milan.soccer eccoci con il primo appuntamento della giornata ancora una giornata insieme una giornata rosso nera un nostro primo impegno quello della mattina è quello di leggere i vostri commenti per quelli che mi vengono riversati da parte del moderatore grazie grazie a tutti per i bei complimenti per il supporto il sostegno al canale vi ricordo per chi non l'avesse ancora fatto di iscrivervi quindi qui sotto è facile basta cliccare dove c'è scritto iscriviti per i più temerari quelli che ci vogliono stare davvero vicino è possibile anche abbonarsi o comunque gratuitamente mettere un mi piace con un bel pollicione iniziamo con questa nostra come dire un buongiorno che è un buongiorno fino a un certo punto perché perché dedichiamo un po di tempo a questa faccenda noi stiamo cercando di trovare il bandolo della matassa cioè da un po di tempo il milan soffre di aritmia cioè sembra che tutto vada bene poi a un certo punto ritorna al punto di partenza o meglio sembra che giochi ad un altro ad un'altra cosa il gioco dell'oca va avanti un po di casella e poi torna al punto di partenza è così mi sembra che sia più o meno quello il gioco che sta facendo il milan avete visto la copertina allora è uscito un importante studio di cui voglio darvi conto questo canale chi lo segue lo sa tiene molto ai dati statistici perché attraverso la conoscenza della propria storia si può conoscere o provare a conoscere o programmare il proprio futuro il cies che è un importantissimo organismo ha fatto il suo 440esimo report report settimanale ma che in questo caso ha preso in considerazione un periodo storico 2014 2023 e ha preso in esame 50 club del mondo con il saldo di mercato maggiormente positivo e maggiormente negativo considerando appunto il periodo detto fuori dal conteggio i calciatori provenienti da settori giovanili mentre l'analisi si concentra sui giocatori che sono stati acquistati e rivenduti quindi un'analisi che si fonda sul calciomercato cioè tra acquisti e vendite qual è il saldo a guidare la classifica come la migliore società ma questo lo potevamo immaginare come la società più virtuosa e qui un applauso lo faccio allo scout moncadà e il lil che ha sfruttato al massimo la notorietà che gli ha dato la vittoria in ligand nel 2020 21 ha rivenduto i migliori talenti sfornati negli anni successivi fra cui ricordiamo pepe ceduta all'arsenal osimena al napoli botman al newcastle eccetera eccetera beh oltre quelli nostri evidentemente o i francesi hanno un saldo positivo di 386 milioni di euro chi invece riceve la palma di peggior saldo in negativo 631 milioni è il barcellona autore di chiaramente affari più costosi nella storia del calcio non ci non ci dimentichiamo Dembélé, Griezmann tutti pagati ben più di 100 milioni a testa però questo ci interessa abbastanza poco perché quelle società non fanno diciamo così saldi positivi loro e comunque guardate che il barcellona e non solo il barcellona sono ultra indebitati ma come nel nostro campionato lo può essere l'inter a quanto pare questo conta poco e nulla e allora è stata stilata la classifica delle 10 peggiori squadre nel saldo tra acquisti e vendite sul calciomercato attenzione perché c'è un dato che ci riguarda il primo posto peggior squadra in Europa è il Barcellona che ha un saldo negativo di 631 milioni di euro al secondo posto c'è il Chelsea con 483 milioni di euro il terzo posto Arsenal 436 milioni quarto Paris Saint Germain 410 milioni e poi il Manchester United con 325 milioni top 5 però io me l'aspetto dal Barcellona da Paris Saint Germain eccetera perché sono squadre che non stanno come può essere l'Atalanta come può essere vedremo ancora appunto il Lille il Salisburgo che sono squadre un po' piccole quindi quando gli capita il campione lo vendono subito e fanno cassa il problema che ci riguarda riguarda il sesto posto perché tra le peggiori club tra il 2014 e il 2023 a meno 298 milioni c'è il Milan settimo la Stoneville con 256 milioni ottavo l'Everton 251 milioni nono il Liverpool con 249 milioni e decima me lo sarei aspettato la Juventus con 219 milioni mentre per quanto riguarda quelle virtuose a comandare come abbiamo detto il Lille che ha avuto veramente un decennio favoloso con 386 milioni più Ajax 317 milioni Salisburgo di cui ho detto 233 milioni e poi ancora l'Ipsia con 216 milioni il Sassuolo è sesto con 208 milioni Benfica settimo 200 milioni ottava l'Atalanta con 200 milioni Entra Francoforte 182 Sporting di Lisbona 169 guardate io devo dire la verità che i due peggiori club in questo senso siano Milan e Juventus i due migliori club siano Sassuolo e dunque anche l'Atalanta sinceramente mi preoccupa un pochettino saldo mercato negli ultimi dieci anni solo le italiane sempre 2014-2023 Sassuolo dunque la migliore con 208 milioni seguono Atalanta 200 milioni Fiorentina 117 Sandoria 114 Udinese 111 Genua Verona Roma Nona l'Inter che comunque si attesta a 168 milioni decima la Juventus e undicesimo il Milan quindi in questo senso possiamo dare un po' la medaglia nera la maglia nera senza il rosso la graduatoria mostra come le più grandi si trovino inevitabilmente nella parte bassa siamo coscienti di questo spesso con saldi negativi perché se andiamo a vedere gli unici che hanno saldi negativi sono Roma, Inter, Juve e Milan perché l'ultima è il Verona con più 81 milioni poi meno 75 la Roma meno 168 l'Inter meno 219 il Milan e la Juve e meno 298 il Milan al contrario nella parte più alta chiaramente si trova una società che fanno molta leva sul player trading per mantenere in ordine i conti su tutto il Sassuolo e l'Atalanta ecco è che quando quelle più grandi si posizionano facendo diciamo così facendo pensando più agli acquisti che a fare vendita però poi bisogna vincere noi ci troviamo nella parte più bassa avendo vinto cosa tra il 2014 e il 2023 adesso mi viene in mente a parte lo scudetto la Supercoppa di Montella siamo diciamo così inizia a essere tanto un decennio ora la preoccupazione e lo metterò alla fine di questo video è quello che ho detto considerando che bisognerà attendere lo stadio fino a quel momento penso che navigheremo un po' nell'oblio dai ciao ragazzi grazie a tutti